Un incantesimo. Un racconto di Gianfranco Martana. Voce narrante di Rosanna Lia. Ogni volta che incrociava un passante, Marcello riusciva a sfuggire all'effetto calamita, quello che ci fa ondeggiare di qua e di là attirandoci l'uno all'altro. Se un tizio andava a sinistra, anche lui andava a sinistra. Se andava a destra, andava a destra anche lui. Non studiava i movimenti. Gli veniva naturale. Da quando aveva smesso di tollerare gli esseri umani, si polarizzava allo stesso modo di chi gli stava intorno. Negativo contro negativo. Positivo contro positivo. Li respingeva. Lo respingevano. Un mattino di fine novembre, mentre percorreva Church Street in direzione dell'ufficio, Marcello alzò la testa calva e glabra dai suoi piccoli pensieri mattutini e si trovò di fronte una donna che gli veniva incontro a passo svelto. Non si sa cosa fu. Forse quegli enormi occhi scuri, forse un gesto inatteso del braccio, lo aveva alzato per sistemarsi i lunghi capelli castani. Forse un altro passante che per un attimo si era infilato tra di loro squilibrandolo. Fatto sta che lei andò a destra, lui a sinistra, lei a sinistra, lui subito a destra. Si ritrovarono tanto vicini che rischiarono di darsi una testata. Lei sorrise scoprendo appena il bianco dei denti sotto il carminio naturale delle labbra. Lui invece era accigliato e sbalordito. Non riusciva a capire. E però quel sorriso era proprio accecante e bilanciava armoniosamente il nero degli occhi. L'uno rimandava all'altro. E Marcello non riusciva a spezzare quell'incantesimo. Così ci pensò lei. Abbasso la testa, fece un passo di sbieco e proseguì per la sua strada. Marcello si voltò. Nel tempo di quel mezzogiro i muscoli del volto si distesero e vide quella donna sparire fra i corpi dei passanti dell'ora di punta. Per ultimi i suoi lunghi capelli castani. Lui, che cambiava strada alla vista di un conoscente, avrebbe rinunciato alla giornata di lavoro per raggiungerla. Offrirle parole di saluto e di ringraziamento per quel sorriso. Ma non sapeva più come si fa. Erano quindici anni che non fermava una donna per strada. Ora ne aveva quaranta. E dai segni che il tempo gli aveva inciso addosso parevano ancora di più. A malincuore riprese il cammino verso l'ufficio, ma, dopo appena due passi, urtò con una spalla il braccio di un uomo gigantesco. La botta gli rintronò il corpo, mentre l'uomo, assorto nella sua fretta, pareva non essersi accorto di nulla. Nemmeno il tempo di abbozzare un pensiero sull'arroganza e la sbatataggine di certa gente, che Marcello si trovò di fronte a un altro uomo. Un piccoletto smilzo e, stranamente, incredibilmente, presero entrambi a oscillare in maniera speculare fino a ritrovarsi faccia a faccia. L'ometto serrò le labbra infastidito e svicolò via. Marcello stentava a crederci. Vole fare una prova. Affrettò il passo e puntò un'anziana signora che veniva diritta verso di lui. Ondeggiò verso destra e la vecchia lo seguì. Ondeggiò dall'altra parte, la vecchia pure. Oh santo cielo, cosa diavolo stava succedendo? Pareva infatti che ormai tutti i passanti dell'ora di punta desiderassero scontrarsi con lui. Forse la donna dagli occhi neri aveva davvero compiuto un incantesimo su di lui per invertirgli le polarità? Ci avrebbe ragionato su, ma intanto, per non rischiare, proseguì il cammino dove il marciapiede era più libero, rasente i negozi che a quell'ora erano ancora chiusi. In ufficio le cose non andarono meglio. Non poteva alzarsi dalla scrivania senza imbattersi in qualcuno che passava di là e nel cucinino non gli riuscivano più quelle mosse simili a una danza con cui sgusciava fra i colleghi. Fece scontrare la sua tazza con quella di qualcun altro. Ficcò insieme a qualcun altro le mani nel cassetto delle bustine di zucchero e facendo un passo indietro calpestò un piede. Era diventato goffo. E dunque così che si riprende contatto con gli esseri umani, con una mancanza di grazia, con scuse offerte e accettate? Il ritorno a casa fu anche peggio del lavoro. Pioveva e tirava vento e il suo ombrello non voleva saperne di fare il suo dovere. Tlac! Cedette una prima stecca. Tlac! Una seconda e l'ombrello finì in un bidone dell'immondizia. Tutti andavano di fretta, la testa bassa protetta dai cappucci o dagli ombrelli superstiti, come orizzonte un metro di marciapiede. Erano decine di bombe programmate per colpire Marcello che, essendo a quell'ora in negozi aperti, non poté ripetere la strategia dell'andata per la troppa gente che entrava e usciva. Decise quindi di spostarsi sul ciglio della strada, ma, quando un autobus che accostava alla fermata incontrò una vasta pozzanghera, si prese in pieno una secchiata d'acqua e percorse gli ultimi 300 metri verso casa, formulando pensieri cattivi. Il giorno dopo Marcello si svegliò con una vaga inquietudine, una smania che gli faceva tremare i piedi e le spalle. Sentì la pioggia battere con furia contro l'unica, ampia finestra del suo monolocale e decise che non sarebbe andato in ufficio. In quattro anni alla Johnson & Partners poche volte era mancato per malattia. Un paio di influenze, una sciatalgia, un virus intestinale. Non sapeva definire quel nuovo malessere, ma per il momento doveva solo lasciare un messaggio nella casella vocale delle risorse umane che avrebbero avvisato il planning team, che a sua volta avrebbe riformulato i compiti da assegnare ai suoi colleghi per compensare l'assenza. Si mise a sedere sul letto, provò due tre volte il messaggio impostando una voce da moribondo e quando fu soddisfatto chiamò. Buongiorno, sono Marcello Ferrante, dipartimento credit. Il mio manager è Jeremy Winslow. Oggi non posso venire al lavoro perché sono malato. Ora aveva un'intera giornata davanti a sé per dare un nome a quell'inquietudine. Decise di alzarsi. Stava sempre attento a mettere a terra prima il piede destro, ma quella volta si imbrogliò e ci finì prima il sinistro. Forse era per via di quel tremore o forse tutto cominciava ad andare a rovescio. Di certo non era un buon segno. Si preparò una tazza di caffè solubile, tirò su la veneziana come un sipario e appoggiò la fronte sul vetro fresco della finestra. Abitava al primo piano, in una stradina quasi all'angolo con Russell Square e Church Street. Vide decine di persone in balia del vento e della pioggia e decise che in giorni come quello non avrebbe più aperto l'ombrello, non avrebbe più camminato sul ciglio della strada e non avrebbe più indossato le sue scarpe preferite, per quel piccolo squarcio fra suole e tomaia che se ne ricordava solo quando pioveva. E allora era troppo tardi. Mentre seguiva le buffe evoluzioni dei passanti, una goccia d'acqua fredda gli cadde sulla nuca. Si strofinò una mano sul punto colpito, alzò gli occhi al soffitto e in una minuscola crepa vide formarsi una nuova goccia talmente pigra che nemmeno pareva sorella di quelle che sferzavano strade e finestre, ma dal momento che gli portava la pioggia in casa, avanguardia infame di un esercito nemico, non gli era meno odiosa. Doveva parlarne al proprietario perché mandasse gli operai, ma intanto bisognava arrangiarsi. Aprì la credenza, ne tirò fuori una scodella e la posò sul pavimento per raccogliere l'acqua. Quel gesto gli ricordò che non aveva nemmeno un gatto con cui condividere il suo monolocale. Figuriamoci una donna. Ma chi poteva trovarlo attraente? Lui che sfuggiva anche gli specchi per non avvilirsi. Avesse avuto altre doti, poteva andare in un club a bere e strusciarsi sul culo delle ragazze. E invece aveva smesso di uscire proprio per non vedere il culo delle ragazze strusciarsi altrove. I colleghi, stufi delle sue scuse, avevano smesso di invitarlo e lui, per dispetto, aveva cominciato a evitarli sul lavoro. In Italia gli era rimasto suo padre, ma andava a trovarlo di rado, per non doversi ogni volta giustificare della sua vita miserevole, che lo sfilacciarsi dei legami rendeva ancora più miserevole. Tornò a poggiare la testa sul vetro. Vide gli ombrelli volare, volare l'acqua delle pozzanghere e i gabbiani, i tergicristalli ondeggiare a tutta forza, le foglie degli alberi scuotersi e staccarsi dai rami e volare. Poi uno squarcio nel cielo fece spazio al sole. La pioggia sembrò evaporare e il vento fu risucchiato altrove. Nel mezzo di quella calma improvvisa la vide. Doveva essere lei. Si era appena liberata del cappuccio di un impermeabile scuro e aveva fatto scivolare una mano fra i lunghi capelli castani. Sono castani, no? Ma sì, sì. Un ragazzo che le andava incontro ondeggiò. Lei fece altrettanto, impacciata dall'equilibrio instabile a cui la costringevano i lunghi stivali. Ieri aveva le scarpe basse, mi pare. Si ritrovarono faccia a faccia. Fu lei la più lesta ad aggirare l'ostacolo. Come ha fatto con me? Il ragazzo fece un mezzo giro per guardarla, poi riprese la sua strada. Come ho fatto io? Era l'ora in cui l'aveva incontrata il giorno prima e andava nella stessa direzione. Tutto coincideva. Doveva solo raggiungerla e poi ne avrebbe avute di cose da dirle. Poteva raccontarle le innumerevoli stranezze seguite al loro breve incontro e per scherzo avrebbe dato a lei la colpa. Ne avrebbero riso insieme camminando fianco a fianco e lui ogni tanto si sarebbe incollato alla sua spalla. Lo vedi che mi hai cambiato la polarità? Uscì di corsa. Il trench finì di infilarselo per le scale e per le scale pensò che sì, poteva anche raccontarle quella buffa storia. Ma per quale motivo una donna così bella avrebbe dovuto dargli retta? E mentre apriva il portone pensò che, certo, aveva un viso delizioso e quegli occhioni neri e quel sorriso splendente, ma non era più giovanissima ed era bassina come lui. Il naso, se ricordava bene, era un po' pronunciato e, vedendola andare via, un attimo prima che sparisse in mezzo a tutti quei corpi, aveva notato che il suo sedere, e se lo immaginò mentre, insomma era fin troppo pieno e forse una possibilità gliel'avrebbe data anche a uno come lui. Costeggiando i negozi a passo svelto, prese per Church Street. Quella donna non poteva sfuggirgli, sempre che non svoltasse in qualche traversa. E allora addio. Mi scusi, forse lei non si ricorda di me, ma ci siamo incontrati ieri e mi ha cambiato la vita. Buongiorno, si ricorda di me? Ieri stavamo per scontrarci e da quel momento mi sono capitate delle cose incredibili. Se vuole gliele racconto. E forse una maga? Una fata? Mentre sceglieva e ripassava le parole, lo squarcio nel cielo si richiuse. La pioggia riprese a cadere e la brezza a soffiare. Forse fu perché assorto in quei pensieri, forse perché girava il collo e gli occhi tutto intorno affrettando il passo, forse per colpa dell'aria torbida, ma all'angolo con New England Road, Marcello attraversò col rosso e... boom! Fu preso in pieno da un SUV. Volò come una foglia al vento, ma se la sarebbe cavata con una tibia fratturata, due vertebre incrinate e qualche lacerazione, se non avesse battuto la testa contro il palo del semaforo. Subito accorse una piccola folla che provò a dargli riparo con un tetto sconnesso di ombrelli variopinti. Marcello giaceva supino, immobile, gli occhi spalancati, increduli, mezzo ciechi. Un sottile rivolo rossastro si ripartiva dalla sua nuca, impallidendo rapidamente fino a confondersi col fiume di pioggia. Qualcuno si portò la mano alla bocca per l'orrore. Qualcun altro urlava... un dottore! In tanti chiamarono l'ambulanza. Avete visto? È passato col rosso! Non è colpa mia! gridava l'uomo che guidava il SUV. Tutti lo rassicuravano come se la disgrazia fosse capitata a lui, anche chi era appena arrivato e non aveva visto niente. Un uomo robusto si abbassò su Marcello, lo guardò negli occhi e, scostando il trench, gli premette la grossa mano sul cuore. Non lo tocchi! urlò una donna. Bisogna aspettare l'ambulanza, aggiunse un giovane punk. Volevo solo capire se è vivo, disse l'uomo tirandosi su. E quindi? chiese bruscamente la donna. Non sono un medico, non lo so, rispose l'uomo e se ne andò tirandosi l'impermeabile sulla testa. Comunque è meglio non toccarlo, ripete la donna a bassa voce. No, Marcello non era morto. Le sue palpebre si chiusero e si riaprirono lentamente quando una goccia d'acqua gli precipitò sugli occhi. Si sentiva bagnato in ogni punto del corpo. È sangue? voleva chiedere, ma le sue labbra si aprivano e si chiudevano senza emettere suono. Facendosi largo fra le gambe dei presenti, una donna si accovacciò al suo fianco e gli prese una mano fra le sue. Indossava un impermeabile blu e un paio di stivali di gomma. Aveva forse quarant'anni. Dei lunghi capelli, scuri anch'essi, il cappuccio lasciava scorgere solo alcune ciocche umide e aggrovigliate. La donna che aveva orlato non protestò, mentre il giovane punk era già andato via, annoiato da quello spettacolo che non sembrava poter offrire altro. Marcello sentì la stretta tiepida delle mani e mosse gli occhi da quel lato. Il collo e la testa no, non riusciva a muoverli. Era lei? Sì, la forma del viso, la linea delle sopracciglia, il nero degli occhi, ma era tutto così sfocato. E sangue? Provò a chiederle. La voce stavolta uscì, o era solo il suono della sua mente? No, è la pioggia, fu la risposta che credette di ricevere. Intorno a lui nessuno parlava più. Si poteva sentire lo stridio dei tergi cristalli del SUV come il lento battito di un cuore. Marcello non aveva più inquietudini. Le gambe e le spalle non gli tremavano. Non sentiva nemmeno più il freddo. Lui e la sua donna potevano restare lì per sempre, mano nella mano, polo positivo e polo negativo. Strinse più forte per esprimere la sua beatitudine e chiuse gli occhi per proteggerli dall'acqua che continuava a cadere. Doveva ricordarsi di avvisare il padrone di casa per quella crepa. Poi venne l'urlo sguaiato della sirena che disperse la piccola folla. La donna dall'impermeabile blu fu l'ultima ad andare via. Lasciò la mano di Marcello solo quando gli infermieri scesero dall'ambulanza e le chiesero di allontanarsi. Senza voltarsi, rientrò nel portone lì accanto. Stava bevendo caffè alla finestra del suo appartamento al primo piano, quando i suoi occhi avevano assistito a quell'orribile incidente.